Regista, sceneggiatore, scenografo, direttore della fotografia, produttore cinematografico, in una parola Erman Olmi è il cinema italiano, un cinema segnato, stupito e a volte ferito anche dalla sua arte, arte premiatissima, ricordiamo soltanto quella palma d'oro al Festival di Cannes con un film folle per quell'epoca, l'albero degli zoccoli e poi Davide Donatello e poi i leoni, quello per la leggenda del santo bevitore, il leone e la carriera eccetera eccetera, però Olmi è un poeta, è un cantore dell'anima dell'uomo e del mondo pur restando il figlio del ferroviere e della contadina. Allora, essere nato in provincia, come cambia lo sguardo sulla realtà, sull'uomo? Io sono nato a Bergamo, in un quartiere che, come dire, io non so che faccetta avessi quando avevo pochi mesi di vita, ma so che sicuramente già mi stavo divertendo dal fatto che quel luogo si chiamava La Malpensata. Allora, ecco, in onore a questo bellissimo, come dire, progetto che prevede proprio perché Malpensata che arrivi il momento della pensata giusta, ecco, io, come dire, per il contributo di mio padre alla mia venuta al mondo, sono metropolitano, per la figura di mia madre che mi ha messo al mondo, sono contadino, ho avuto questa fortuna di vivere due realtà che in quel momento dividevano il percorso dell'umanità in due filoni. Certo, si è cominciato nel Settecento a capire che la macchina sarebbe stata, come dire, sicuramente una grande potenzialità per lo sviluppo di tutte le scienze e di tutto il pensiero. Ma fra le due civiltà, la civiltà industriale, la civiltà del progresso scientifico e la civiltà contadina, la civiltà contadina è una civiltà eterna. La civiltà industriale è una civiltà provvisoria che cambia continuamente col passare del tempo. Adesso c'è qualcuno che vuole rovinarci anche il rapporto con la civiltà contadina. Volendo sostituire questa civiltà con una civiltà di cartone, nel senso di messa in scena. Posso chiamarti Monica? Se in ogni autogrill d'Europa vendono lo stesso pane fatto con la stessa farina c'è qualcosa che non va. E chi insidia questa civiltà contadina? Gli apparati di un'economia stupida, folle, che ha al momento anche una sua resa, ma che sulla distanza pagheremo un conto notevole. Tanto che io mi sono appuntato a questo promemoria, per i miei pochi pensierini che ogni tanto faccio, per diventare ricchi siamo diventati poveri. Però il suo sguardo Olmi non è mai nostalgico. La civiltà contadina è l'unica civiltà compiuta e per questo è la civiltà che durerà sempre. E il fatto che sia insediata non mi preoccupa affatto perché so che sarà sempre vincente quella civiltà, quella rurale. Ma lei la vede ancora? Lei la riconosce nei segni? Forse qui, queste montagne? Allora, noi non potremo mai cancellare da noi stessi dal fatto che siamo figli di questa natura e che questa natura e naturalità è il nostro Vangelo. Tutta la cultura del mondo non è nulla in confronto alla cultura rurale. Perché non è nulla? Per chi crede, diciamo, in quella parte delle scritture dove la fantasia umana ha dato un bel contributo. Che cosa ci ha affidato il grande artefice? Il creatore? Cosa ci ha affidato? Il giardino di Eden di cui dobbiamo prendere cura. Lo stiamo calpestando e pagheremo il fio dei nostri errori. Credo che lo stiamo già pagando. Lei parla dell'importanza della memoria. In un tempo invece di sradicamento, di frammentarietà, è la fine delle grandi narrazioni. Lei è un amante di Tal Stoi e questa civiltà che secondo lei è radice ancora e non possiamo cancellare, era l'epoca delle grandi narrazioni, dei grandi racconti. Un po' quello che lei ha voluto fare col cinema suo, no? Ma ecco, come dire, non viene da una volontà, come dire, da mettere in calendario, ecco, da domani. Programmatica, certo che no. Ecco, pensi un po' che quando il film a Cannes ebbe quel felice risultato che mi ha molto consolato, io credevo di aver fatto con l'albero degli zoccoli un film per conservare la memoria di un mondo che sarebbe stato pagocitato, addirittura calpestato da quello che noi chiamiamo il progresso. Beh, mi sono accorto che invece l'albero degli zoccoli è il battesimo di una nuova consapevolezza del valore della Terra. È molto bello che lei dica che questa eternità di una civiltà che a noi sembra perduta lei l'ha scoperta poco per volta, perché forse abbiamo la possibilità tutti di rendercene conto. Guardi, posso aggiungere una cosa? Il presidente della giuria Cannes era Alan Pakula, che è uno dei grandi del cinema americano. Lui mi ha detto, guarda, io sono venuto qui che ero quel che che ero. Il tuo film mi ha cambiato. Cosa c'è di più bello di sentire che non il merito tuo, ma che ciò che ho avuto l'opportunità di fare, questo film sui contadini, abbia avuto questa risonanza di un grande regista che viveva in un grande paese come l'America e via 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 tutta una serie di lodi e stralodi e che ti dice questo film mi ha cambiato. Ma non intendeva apprezzare il cinema, intendeva farmi chiaramente intendere che erano quei contenuti, che erano il gran libro dell'Ada. Quei volti anche, no? Secondo lei quali sono oggi gli elementi del nostro tempo che vale la pena raccontare e che lei vuole raccontare? Penso, non lo so, al dominio della tecnica, penso al narcisismo, all'incomunicabilità, alla mancata custodia del creato, oppure la disegregazione delle famiglie, oppure l'isolamento. Quali sono i temi o l'indifferenza a Dio? Cosa vale la pena di raccontare oggi? Io a volte ho l'impressione che viviamo sfasati. Vale a dire che esiste un determinato modello di vita che non corrisponde più al momento che stiamo vivendo. A questo punto devo citare un grande uomo della Chiesa di cui mi sto occupando, il Cardinale Martini, quando dice la Chiesa è indietro di 400 anni. Qualcuno ha fatto, beh, facciamo 200. È questo sfasamento che rende disagevole la nostra esistenza. Perché? Perché siamo tutti, lo si dice, dei motori fuori fase. Allora, come si fa a recuperare la fase? Se avessimo il coraggio di confrontarci con l'onestà. Quindi l'onestà dei nostri giudizi. Il finale di un film che ha per titolo il villaggio di Cartone, che è un film, diciamo, forse un tartinello scalchignato, però dove si affronta il problema dei diversi, vedi gli emigranti, che si rifugiano in una chiesa, vedi l'edificio che però li vuol cacciare. Ecco, c'è una battuta finale che conclude. il film. O noi cambiamo il corso della storia o sarà la storia a cambiare noi. Come lo cambiamo? E questo lo dobbiamo decidere insieme. Dobbiamo, io non ho qua, come dire, la risoluzione. perché la risoluzione non è tanto nel dire, ecco, la risoluzione è la ricchezza, l'abbiamo già detto, quella del danaro. La risoluzione è la libertà un po' narcoide, non anarchica, tutto questo non è, come dire, onesto, perché non si può dire così. Dobbiamo dire giorno dopo giorno cerchiamo di recuperare il passo con la storia. E questo conforto che mi ha dato Martini, con la sua affermazione dei 200 anni, in qualche modo, come dire, mi aiuta a giustificare certe mie negligenze. Lei ha detto, Olmi, che è un uomo di sentimenti, non un sentimentale. Me lo spiega? Mi permetti, cara Monica, di farti una domanda. Secondo te, dimmi uno dei tuoi sentimenti a cui non rinunceresti mai. L'amore. È generico. L'amore per che cosa? Per il gelato di cacao o per, o per, io credo ai tuoi figli. Credo. Ecco. Allora, il sentimento è quello dei tuoi figli. Quando in una gara perversa di stupidità e di cose, allora arredi tuo figlio secondo i bambolotti del nostro tempo, tu non fai un regalo al tuo figlio. Tu lo poni nelle condizioni poi, per esempio, di non essere più in grado di avere tutto ciò che tu concedi a lui come oggettistica. Chiaro. Ma se tu li vuoi bene, li vuoi davvero bene. Vuoi il suo bene. Vuoi, brava, il suo bene. Quello è il sentimento. Quello è il sentimento. Stando qui e vedendo questi prati e le montagne di questo altopiano che lei ha scelto da tanti anni, 50 credo, penso all'ultimo film che ha un titolo bellissimo, Torneranno i prati, e al tema della guerra che lei ha raccontato soffertamente. Come si vince la guerra, nel senso, come la si elimina la guerra e perché nasce? Allora, per eliminare la guerra bisogna non farla. Dice, che bella roba. Come nasce la guerra? Allora, hai mai vesticiato con qualcuno? Magari quando eri piccola, no? Ecco, così. E magari vi siete tirate le trecine perché, ecco, allora, la guerra è un estremo quando la capacità di giudizio non funziona più. E quindi trasferisci i motivi del conflitto dal confronto di pensiero, di approfondimento al confronto di forza. Io sono più forte di te perché ho tanti carri armati, tanti cannoni, tanto danaro, tanta terra, il tanto di tutto. E allora? E allora questo qui in teoria non ha neanche bisogno di misurarsi perché già ha la forza per vincere e quindi sottoporti. Sottometterti. E torna alla storia del pane. Se tu vuoi mangiare il pane oggi, garantito come frutto della terra e del nostro lavoro. Sì, ma c'è un numero di Genesi che dice io darò all'uomo alberi da frutto che danno frutti che hanno un seme, il cui seme ridarà l'albero e il frutto. Questa ciclicità della vita noi mangiamo roba morta e pretendiamo di essere vivi. Lei l'ha raccontata la guerra, ha raccontato una guerra antica di cui le ferite si vedono ancora in queste montagne. Cosa c'è di nuovo e forse di più perverso nelle guerre di oggi? Penso alle persecuzioni in Siria, penso alle guerre quotidiane. C'è sempre dietro un forte interesse, primo fra tutti è il mercato, vale a dire io dispongo di cose che mettendo alla disposizione di altri mi procurano ricchezza. Io ho fatto un altro film con il tema della guerra e che è il mestiere delle armi. Se pensi che il mestiere delle armi ha come protagonista un ragazzo di 28 anni, Giovanni De Medici, che a quell'età viene denominato dal Papa suo parente capo di tutti gli eserciti del Vaticano. Già questo uno dice ma dovrebbe dire ma come il Papa con gli eserciti? Ma che roba è? Ecco allora nella storia della Chiesa tante di queste pagine disonorevoli. Ciò nonostante la Chiesa cattolica apostolica romana mantiene questo suo incarico di testimoniare l'esempio di Cristo. Non tanto di conoscerne la storia chi era il papà, il nonno, il figlio, è figlio di Dio? No, non è figlio di Dio, sarà figlio di qualcuno. Ma quest'uomo che ha sconfitto la guerra, quando dice io distruggerò il Tempio e lo riedificherò in tre giorni, cosa vuol dire? Che il Tempio era considerato il luogo della preghiera dove si conservava la Torà, dove si vendevano colombe per comprare… La rigidità della legge. Esatto, brava. Ecco, ma come? Questo qui distrugge un Tempio e in tre giorni lo rifà. Perché il Tempio non è quello, il Tempio siamo noi. Allora io dopo che avrò distrutto quel Tempio, che non è un Tempio, ecco che in tre giorni e anche meno, se sono onesto con me stesso, io ho ricostruito il Tempio dentro di me. Ci vuole qualcuno che ci salvi, no? aprirò le braccia, parentesi, le porte del Tempio a tutti coloro che incontrerò. Senta Olmi, lei ha parlato, una frase che mi ha molto commosso, non di speranza della resurrezione, ma di certezza della resurrezione. Sì. Cosa gliela dà questa certezza o chi gliela dà? Dipende dall'interpretazione che noi diamo alla resurrezione. Proprio in Cento Chiodi il film lo faccio finire con questi vecchietti, questi deliziosi personaggi… Abitanti del fiume. Che si siedono intorno a un tavolo, il bambino, prima il bambinello ha annunciato, io l'ho visto, è tornato, vabbè, diciamo, nessun altro l'ha visto, quindi la testimonianza di un bambino che ha detto sì, e loro si siedono, tutti questi, che io chiamo sempre vecchietti ed erano più giovani. Si siedono e uno dice, beh, intanto che aspettiamo che torni, beviamo un goccio. Allora, il fatto di aspettare che torni vuol dire che lo abbiamo risorto, sennò non tornerebbe a condividere una bevuta con i suoi vecchietti, il professorino del film. Quindi, nel momento in cui noi consideriamo accanto, diciamo pure questa, alla nostra anima, intesa come un sentimento e non una patente di… ecco, il momento in cui noi evochiamo la figura di un qualcuno che abbiamo conosciuto e che sento che tutti i giorni quando mi alzo o incontrando una persona amica o chiudendomi in un pensiero magari un po' triste o allegro, ogni volta che io evoco questa persona, questa persona risorge. Sì, Gesù Cristo non è solo un pensiero, è una persona, un incontro. Come possiamo credere che questa resurrezione sua, testimoniata nei Vangeli, sia anche per noi? Glielo chiedo perché lei ha vissuto un periodo di malattia grave in cui immagino la domanda del perché proprio io e dopo sia stata più urgente. Primo, come serve anche la sofferenza? E secondo, come si tiene viva questa speranza della resurrezione possibile? Ma perché, come dire, c'è una piccola scatolina dove mettiamo dentro le cose che ci sono care e che di tanto in tanto andiamo, apriamo la scatolina e guarda questa cosa, vedi, in quel mobile lì ci sono dei cassettini dove arrivano dei momenti in cui non mi ricordo più cosa c'è dentro. E a volte, come dire, finché non li ho rivisitati tutti non smetto di aprire dei cassettini, non ho necessità di sapere che di dentro c'è qualcosa che sto cercando, ma è un aprire dei cassettini per avere una sorpresa, perché io mi sono dimenticato di quello che c'è dentro. E allora vado e, ecco, bene, un oggetto, una lettera, una fotografia, nel momento in cui la ritrovo, la riscopro, risorge. E quindi la risurrezione non è, come dire, che a un certo momento qualcuno ha aperto il sarcofago, la tomba di Cristo e questo è uscito e è partito come un razzo verso il paradiso. Se noi lo stiamo aspettando, come amico che ogni giorno ci soccorre, ogni giorno risorge. E questo aiuta a sopportare il male del vivere? Ecco, anche qui, quante volte mi sorprendo a dire con Loredana, ma porca miseria, ma perché? Prima questa Ghiembare, poi delle cadute di cui porto ancora le difficoltà, perché il femore, ecco, non lavora più, come fanno tutti quelli che la sorte li ha chiamati a questa prova. Non posso dire io sono quello che soffre di più. Io soffro la mia parte di sofferenza e questa mia parte di sofferenza mi fa capire cosa può essere la sofferenza di quell'altro che ha motivi ancora ben più gravi che gli procurano sofferenza. Non se l'è mai presa con Dio per la sofferenza del mondo? Allora, già cominciamo a dire che Dio non è qualcuno che sta sopra le nuvi. Allora, Dio è tutto ciò che noi incontriamo nella nostra esistenza, compreso il male. Attenzione, compreso il male. Perché proprio nella Bibbia, quando dice l'Ente Supremo, guai se l'uomo che ha allungato la mano all'albero del male, allungherà la mano all'albero della vita. Noi allora, noi, che non è un plurale maiestate, ma è il suggerire l'idea che Dio è una cosa che ne contiene due. È relazione. Quindi noi, bene e male, lo impediremo, mandando un angelo dalla spada di fuoco. Perché questi due? Perché non può esistere bene se non c'è il male. E questa è la, come dire, impossibilità al creatore di compiere delle scelte. E allora fa, nella sua creatura a cui dato il suo soffio di vita, a lui dà l'incarico di scegliere e attuare il bene o il male. E questa è la facoltà di ogni uomo. È il libero arbitrio. È il libero arbitrio. Quindi pensi come Dio, proprio come creatore di vita, di carne, di sangue, di luce, di pane, di mari e quant'alte meraviglie, senza l'uomo non potrebbe essere Dio. Domani vorrei parlare del cristiano, Olmi. Perché lei non ha mai nascosto di essere cristiano e ha detto qualche volta non cattolico. E vorrei capire perché. Ok? Grazie a tutti. Grazie a tutti.